Ciao Manuel, da quanto tempo fai il flair bartending? Diciamo che lo faccio 8-9 anni, però a livello gare dal 2009 Prima era tanto al bar a fare un po' di acrobazie E si comincia sempre così? Eh sì, infatti Come hai trovato la flair combat della New Bar Concept? Molto bene, c'ero già l'anno scorso, un motivo anche per il quale sono tornato Organizzazione top, a parte che Chico è un buonissimo amico in generale Però organizzazione top, albergo, direttamente vicino alla location, stazione, aeroporto, tutto Fa piacere, non devi pensare, devi solo andare sul palco e fare quello che sai fare, basta Perfetto E se invece dovessi dare un consiglio a Chico per migliorare la prossima edizione? Magari qualche grado in meno qua dentro, perché stiamo sudando a parlare È una roba alucinante Non sei il primo, riferiremo Però per il resto, top, veramente, grazie Alla prossima Alla prossima, ciao